In questa prospettiva c'è questa visio d'Antis, la cui lettura è compiuta dagli artisti e dagli architetti, pittori, scultori del Primo Rinascimento. Allora c'è uno straniante, un punto di fuga, che è l'oggetto che viene indotto dalla visione e c'è una prospettiva come teoria della menzogna e arte della menzogna, arte anche dell'esibizione. Allora la visio d'Antis qui si costituisce come teorie, come teatro, come formazione e come arte, come organizzazione, come varietà. Allora se per un verso la speculazione porta all'invenzione, a una certa funzione di inibizione, la rappresentazione assicura che non c'è mondo e non c'è presenza, non c'è distribuzione, quindi non c'è il mondo e non c'è la sua distribuzione fra la presenza e l'assenza, ma c'è piuttosto questo immondo, questo punto di fuga, questo straniante nella prospettiva. Per un verso dunque l'aberrante indotto dalla speculazione, per l'altro verso l'immondo indotto dalla rappresentazione. Nel loro intreccio la pornografia, ossia la scrittura che qui è anche della luce, e anche delle cose che si intendono scrivendosi e quindi spiana la via a quello che oggi è il video. Ma intanto c'è l'oggetto, c'è questo sembiante, c'è il punto e il contrapunto che aprono dunque questa storia del primo rinascimento. C'è il colore di questo punto, di questo oggetto, che impedisce, diciamo, di situarlo in un... di situarlo o di collocarlo, di stabilirne un luogo. Questo punto, questo oggetto restano perennemente, per dire così, nella parola. E ciascuna volta nella parola. E questa è la moneta, ovvero il colore dell'oggetto stesso. La sua impossibile situabilità. Allora, la pittura come numismatica. Questa è l'ipotesi, diciamo che è l'ipotesi. Questa è la cosa d'azione, piuttosto che abbiamo fatto. La pittura come la puntualità delle cose. La pittura come l'arte del colore. La pittura come l'oggettività stessa. Non ha bisogno di un'altra oggettività. È l'oggettività stessa. Allora, è questo che si rivolge dunque verso, in seguito alla pornografia, in seguito alla fotografia, dunque alla dogma, all'archetipo. Questo è il dogma. All'incredibile, all'inimmaginabile. E tutto ciò che viene, ciascuna volta, posto in risalto come il primitivo, come il primitivo dunque, come l'originario, ossia l'assenza di un'origine estranea alla parola. Dunque, tutto ciò però si chiama speculazione dell'immagine, si chiama prospettiva, si chiama pornografia, ed è a questo che reagisce la visione del mondo. La prospettiva non è una visione del mondo, e non c'è mondo, anzi, nella prospettiva, ma la visione del mondo è una reazione, quindi, a questa arte. E' in questo senso che forse, prima anche, l'Annunzio diceva che la profondità è mascherale, cioè questa profondità e questa indicazione dello sfondo, dell'assenza di fondo. Ma, a proposito del nulla e del niente, poi magari passerò alla trascrizione di una conferenza, anche per la nostra conversazione, per poter proseguire la nostra conversazione, che ho fatto di recente intorno a nulla. Allora, adesso noi riprendiamo i lavori esattamente alle due e mezzo, anche perché sono varie le cose interessanti, e saluto intanto il nostro amico Fernando Arraballa, che è arrivato qui questa mattina. Grazie. Arraballa. Che il spectacle commence! Dei e tre! Arraballa! C'è una persecuzione che ha durato molto tempo e che mi trovo che mi sembra molto a la persecuzione di quei objets verdiglionari. L'Espagna del XVI secolo era una espagna che aveva una crisi semblable a quella che attraversa oggi l'Europa occidentale. C'è un paio in cui aveva un gruppo di funzionari molto moderni, molto progressisti e che non potevano supportare la figura del Cervantes. Non potevano supportare perché si avessero guardare la società espagnola e si avessero visto che la società espagnola aveva dei problemi seri. E il problema serio era il problema del banquerrouto, il problema del livello sociale e il problema soprattutto economico. De tal modo che l'arrivata di un uomo come Cervantes che proposa un mondo nuovo, un mondo di chevali, era inacceptable perché per loro il solo chevali era il cavallero e il don dinero, cioè il chevali e l'argento. C'è per questo motivo che c'è una lunga persecuzione molto semblabile, mi ripeto, a quella che ha avuto l'uomo vis-à-vis di Verdiglione. Il ha avuto una lunga persecuzione contro Cervantes che l'a amenata in prison. Ma là, il faut fare molto attenzione perché c'è parte dell'ordine che non c'è l'artista o le rinnovatore. Il essaie di l'enterrere definitivamente, come è stato il caso del Cervantes. Ma il y a delle possibilità, o come è di l'enterrere definitivamente o come è di non riuscire. Se come nel caso del Cervantes, non riuscire, queste persecuzione, queste prison si trasforma in un elemento positivo per le proprio creatore. E c'è in la prison di Sèviglia che Cervantes comincia a scrivere le Quichotte. E ora, noi sappiamo che Cervantes non avrebbe mai avuto l'idea o l'idea o l'idea di scrivere il Quichotte se non aveva stato stimolato per questa parte dell'ordine che voleva entrare nel conformismo di sua epoca. Il caso di Cervantes e di Verdiglione è molto riuscito. On diria che tutto il lungo della nostra storia, abbiamo avuto dei casi semblanti. Abbiamo conosciuto il caso di Malrauxo, André Malrauxo, che al principio di sua vita, il ha stato anche perso per la parte dell'ordine, e anche difenduto per le persone che difendono di Verdiglione, c'è a dire per le rinnovatello, le anarchista, le surrealista di sua epoca. C'è il caso di Chaplin, di Charlo. Charlo ha stato anche perso per sécutato. C'è il caso, molto semblabile anche a quello di Verdiglione, c'è il caso di William Reich. Il è sicuro che ora non possiamo farciare Verdiglione con il stesso argomento, che abbiamo farciato a William Reich, o a Cervantes o a Malrauxo, perché le tempo hanno cambiato in sua forma, ma la persecuzione è identica. Il è una persecuzione che, di volte, diventa molto tragica. Quindi, immaginiamo, per esempio, il caso di Lorca, di Garcia Lorca, un uomo che va l'acuiter la vita, va l'acuiter la vita, son anticonformismo. Io voglio dire che questa situazione è una situazione molto negativa, che deve far molto soffrire a Verdiglione. Noi sappiamo l'intensità delle peine che ha avuto Malrauxo, che ha avuto Cervantes in delle condizioni semblative, quindi io penso che questa situazione deve far molto soffrire a Verdiglione. C'è una situazione che fa soffrire queste amiche. Ma, parallelamente, quelle situazione inviabile. Verdiglione, dice che a questo momento, era un rinnovatore. Il nous proposte, e c'è la sua faute, son peché maggiore, il nous proposte, in dehors di parti, in dehors di instituzione, in maniera nuova di concevole la vita, la psicologia, la psichiatria. C'è stato inazionato. Ma, perché noi sappiamo che non ci sarà l'acuitero, noi possiamo l'inviare. Il è iniziato di vivere una grande avventura. Io credo che l'avventura della persecuzione è l'avventura la più riche che può vivere un uomo, l'exil e la prison. E io credo che, il y a Pierdex che non mi contradirà, io credo che questa grande scuola della persecuzione è l'acuola in cui si formano tutti questi grandi creatiore che noi abbiamo conosciuto durante l'Historia. Quindi, diciamo a questi piccoli burocrati, sempre le stile, a questi parasiti che oggi sono rappresentati da un piccoli giugno italiano, diciamoci, grazie, signor le parasiti, grazie, signor le conformista, grazie, Grazie. Grazie. Ha dato la sua testimonianza di scrittore, di intellettuale, di letterato intorno a questo afferro. A me è rimasta la curiosità di sentire la sua testimonianza di grande giocatore di scacchi intorno alla strategia, alla conduzione di questo afferro. Grazie. 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 è una parte italiana, è una parte più equilibrata, è una parte della renaissance. Quando la Francia arriva a concevuto l'idea della rivoluzione, il championio del mondo sarà un francese che si chiama Filidor. E prima di che cominciare la rivoluzione francese, Filidor va creare, va concevoir un nuovo progetto di giù d'échec, nel quale il monarchismo e l'attente di giù vanno essere ballati per un senso democratico, rivoluzionario. Filidor dirà che il reino e la reina, a questo momento si chiama la reina, passa ancora la dame, il reino e la reina non sono importanti, l'âme d'un giù d'échec sono le pion. Il è interessante di notare che Filidor, per una formidata pirata di destino, non era lui-même rivoluzione, era monarchista, e quando la rivoluzione, c'est-à-dire le cidè che il aveva programmato sull'échiquier a réussi, il è partito in Anglieterre e non ha assistito al momento in cui la rivoluzione face l'échec e matto al proprio roi francese. Lorsque il romantismo arriva, noi ci saranno contemplare che il champione di mondo sarà un Allemand che non sarà interessato per il fatto di raggiungere una parte, di cui Andersen vorrà unicamente fare delle belle parti e queste grandi parti s'appelleranno la toujours vera, l'immortale, c'est-à-dire le parti che ha dei nomi, dei poemi. E non ne vous inquiétez pas, Verdiglione, noi reveniamo a Verdiglione perché l'histoire dell'échec, alla fine, noi vediamo che 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 siamo arrivati a vostro caso. Quindi noi siamo arrivati al romantismo allemand con il suo rappresentante e il va di essere che che quando Freud arriva il championio non può essere il stesso che per il passato e il championio di mondo va essere ancora un Allmant, ma lui è Lasker che sarà solo interessato per i problemi psicologici e non vogliono studiare le parti non studiare le libertà ma sarà solo interessato per studiare il suo rivalo psicologicamente Lasker sarà il champion del mondo in applicando queste regole e già ci vediamo arrivare a l'orizzonte il mondo terribile dell'exil questo mondo dell'exil del XXI secolo provoqué per il totalitarismo che non ha nulla a fare con l'exil precedente l'exil che è piuttosto con un po' spagnolo di destierros allora quando questo exil arriva il champion del mondo sarà un exilato sarà l'equina e l'equina è questo exilato russo che va vivere la vita enta con un chat e un giorno il va in Pologna con il suo chat che si chiama Russia il va allare la poitina all'air verso la frontiera per entrare che lui con il suo chat che è la libertà il va di soire che va essere rifiutato e il va all'exilato e tutto l'anno noi vediamo dei championi del mondo che saranno per la mystica per l'idea di Dio di tala maniera che Einstein per esempio quando è champion del mondo il va tellement essere passionato per Dio che che il trottoir di New York che sono a questo momento sono noire e blanche che giù dei partiti contro Dio ma come il aime molto Dio e il lo respecte molto e il è champion del mondo e fa cadeau di cavaliere a Dio e noi arriviamo nel momento di oggi momento passionato dove e chi è il champion del mondo attuale non non ne è che di per sapere la rèpone il champion del mondo non può essere un americano mystico e è che che il del mondo americano e mystico Robert Fischer è che il ha la corone su la tete la réponse vous la connaissez non e pourquoi non parce che una fois di più noi vediamo le teatro le che che non la vita ma la vita la e face au génie creataire au renovataire a ce mystique de californie qui ne peut pas être secondé ni par sa fédération ni par son pays se trouve le reste du monde organisé petitement médiocrement dans des fédérations castatrices et tout d'un coup il se rend compte que dans les jeux d'échec à l'arrivée de l'informatique on peut connaître exactement la valeur de chaque champion et nous savons que Bobby Fisher l'américain le mystique américain de